Comal Tatal, 53 di overall, 22enne indiano, giovedere per il quale io stravedo. Ali è, lui è il più interessante secondo me, perché 22enne, essendo giovane, noi abbiamo già due centrali molto avanti con l'età, 33 anni e 35 anni. Una regione italiana in quel dell'Odisa è arrivato il centro e la pista centrale titolare. Narayanan, Narayanan, con tuo Disa. Davanti a noi abbiamo il primo vero episodio di questa caghera, perché se negli scorsi episodi abbiamo solamente parlato, in questo si va dritti al sodo. Le prime partite di campionato. Nello scorso episodio ci siamo dimenticati una cosa importante, di inviare nuovamente l'osservatore della primavera. Non abbiamo inviato l'osservatore della primavera, quindi lo dobbiamo inviare un pochino in là nel mese. Lo inviamo nuovamente per tre mesi in Asia, in Asia se, in India. Vai, Amar, facci sognare, Amar, mi raccomando, eh. Ho stilato le tattiche, ho fatto un bel po' di roba, ho messo come istruzioni per quanto riguarda Jadav e Jerry di giocare larghi, Krishna di inserirsi alle spalle, Apuia di avanzare ed entrare in area per il cross, Jaou di rimanere dietro e, così come per Puitea, di restare al limite per il cross. Lui attacco equilibrato perché deve essere in mezzo tra Apuia e Jaou. Mentre Pano e Rantley, io ho detto di rimanere indietro in attacco perché se no se partono rimaniamo solamente con Delgado. Fall e Jaou dietro e in tre coprono solamente il centro, l'esterno del campo non viene occupato. Di conseguenza, qual è la mia idea tattica? La vagnetta. Questa è l'idea di base. Cosa succede? Jadav e Jerry si allargano. Krishna si inserisce. Vedete? Jadav e Jerry si allargano, Krishna invece si inserisce. Ma cosa succede al centro campo? Perché se Puitea avanza proprio, se siamo capiti, dall'altra parte Apuia deve creare densità in mezzo al campo. Densità che manca perché? Perché Jerry e Jadav si sono allargati. Densità che pecca perché c'è solamente Krishna. E Krishna, e Krishna sui colpi di testa, pecca perché essendo alto 1,65 da apia di testa. No! Invece Apuia, con il suo 1,80 e qualcosa, adesso non ricordo di preciso, se si inserisce e crea densità in mezzo all'area, si crea questo. Puitea, che rimane al limite per la conclusione da fuori in caso di ribattuta. Jerry che si allarga. Jadav che si allarga. Krishna che si inserisce. Crea densità, dà fastidio a due centrali, quindi uno e due lo va a marcare. Apuia si inserisce e con la sua altezza può diventare un'arma per i colpi di testa. Questo è il calismo. Possiamo andarci a giocare la prima partita di campionato contro il Chennaiin. Chennai che se non sbaglio dovrebbe essere una squadra di medio-bassa classifica. Niente di particolare. Discorso portiere invece, che nello scorso episodio c'è infortunato per un mese e mezzo il buon Singh. Diamo spazio a Kumar. 51 di Euro perché è più giovane, ventenne. Mi ha detto di prendere qualcuno degli svincolati, però per il momento voglio puntare sui giochi che abbiamo in rosa. Non voglio andare a prendere qualche svincolato, poi vedremo se proprio dovesse andare malissimo il tutto. Andremo a prendere uno svincolato a questo punto. Per il resto io direi di puntare a questa partita con la formazione titolarissima. Si parte ufficialmente con la carriera a giramondo. Prima palla che viene fatta girare da parte di Krishna. Versa Puglia e adesso reentra le palle al piede. Si è partiti ufficialmente con la carriera a giramondo, ragazzi miei. Krishna a Puglia. Ecco che si inserisce. Palla dentro per Puitea con il destro. Conclusione che lascia molto a desiderare. Cross in mezzo di testa da allontanare i nostri. Adesso possiamo andare in velocità con Puitea. Krishna vediamo se si propone Puitea va da solo perché Krishna è in mezzo a due. Serve adesso Roy Krishna contro Singh. Krishna è molto più rapido. Krishna va, fino in fondo. Krishna di incrociare! Roy Krishna al dodicesimo! Ve l'avevo detto che lui sarebbe stata la stella di questa squadra. Roy Krishna! Prima rete di questa carriera a giramondo. La segna il giocatore. E lì sono le figi. 1-0 per noi. A Puglia. Da fuori? Traversa di A Puglia! Mamma mia che palla meravigliosa. Krishna. Si inserisce Puitea. No, sbaglia il passaggio. Jadav dentro. Puitea con il... Puitea con il mancino! Krishna con la testa! E niente, non siamo riusciti a buttarla dentro. Non siamo riusciti a buttarla dentro. Narayanan! It's time to shine, Narayanan. Dopo aver realizzato la prima rete di questa carriera a giramondo, Roy Krishna si infortunia. Vedremo per quanto sarà fuori. Go lui. Go lui dentro. E c'è la rete da parte del Chennai al 42esimo. Si è passato dal paradiso all'inferno nel giro di pochissimi minuti. Partita che si è messa totalmente su un altro livello rispetto a quelli che erano i 30 minuti iniziali di gioco. E miracoloso qua il nostro estremo difensore. E poi a Puglia. Puitea dietro a cercare a trovare Jiao. Lo proviamo con lui da fuori. Non è male. È parata stranissima a parte del strano difensore del Chennai. Depongo era brevemente. Narayanan. Pinta. Narayanan. 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 Palo. E vabbè. Allora ditelo. Narayanan. Non ci arriva. Sing. Crivellaro. Dentro. No lui. Tiro. Bell'intervento. Bell'intervento. È 2 a 1. Adesso ci serve letteralmente un miracolo. Narà. Narà. Narayanan. Al 74. E due pari. Narayanan. Subito con il kick of glitch. Crivellaro. Dentro per Ali. Ali dentro a sua volta c'è il tentativo. Ci serve un portiere. Questa partita mi ha ricordato molto Szczesny contro il Sassuolo. Oddio. Oddio. Due mesi fuori. Ok. È accettabile. Poteva andare molto peggio. Cioè tra tutti io vedo Marinovic come il più realistico. Perché essendo della Nuova Zelanda. Andiamo con Marinovic. Ci serve un portiere. E assieme alla chat abbiamo deciso di andare a prendere il buon Marinovic. Ci serve assolutamente Marinovic come il pane. Va a occupare uno slot per i giocatori extra asiatici. Ma poco ci interessa. Perché comunque non possiamo permetterci di perdere le partite a causa del portiere. Cioè questa partita con 3CN è stato un meme clamoroso. Quindi proviamo a prendere Marinovic. Neo-Zelandese. Anche era abbastanza realistico. Cruciale ovviamente. Io devo capire perché stanno c'hanno il cameraman che praticamente è staccato. E le camera così. Guardate c'è sta... L'inquadratura non stanno mai... Non c'è la stabilizzazione. Tutto un... Non lo so. È emozionatissimo. Un anno di contratto Marinovic. Parliamo di stipendio suggerire 900. Io a questo punto sì. Lo renderei il giocatore... Il secondo giocatore più pagato. Vedi? Vedi? Vedi che... È partito abbastanza male. È partito abbastanza male questo episodio. Mi vedete per bullizzati pure da Marinovic. Regà. C'è solamente da pregare. Affrontiamo un Punjab FC. Che anche loro hanno perso la prima. 3-2. Sono probabilmente la nostra stessa situazione. A noi serve un portiere come il pane. Ma Marinovic ci ha detto no. Io all'Odisa non ci vengo. A meno che non mi dai tot soldi. Che non si sa quali siano. Andrei con questa formazione. Sono molto curioso di vedere Paul dal primo minuto. Che non mi ha dispiaciuto a partita in corso. Anche Narayanan. Facciamo giocare al posto di Fall Ali. Diamo fiducia al buon Ali. Perché Fall proprio 0-0-0. Andiamo così contro il Punjab. Che non c'hanno la maglia reale loro. Perché è una squadra che si è aggiunta quest'anno. E non hanno ancora sbagliato le maglie. Quindi non c'hanno una maglia sul gioco. C'hanno solamente il logo. Dai ragazzi. Motivati per favore. Gigi. Gigi. Salvaci te per favore. Portaci un po' di fortuna. Palla dentro per mai. C'è nello prova. Gigi non ha portato fortuna. Jaú. Ecco qua. Il giocatore più forte della squadra Jaú. Ricordiamolo. Ricordiamolo che Jaú è il più forte all'interno della squadra. Perché ha perso almeno 50 palloni. Mai Chen lo prova. Calma. Concentriamoci. Guitea. Nara. 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 È anche il loro portiere. È anche il loro portiere. 2 a 1. 64esimo. Il problema è quando attaccano loro. Quando sono nel possesso palla loro è finita. Perché Panuar non li segue. Cioè Panuar è bloccata al suolo. Mai Chen. Vola. Delgato però lo chiude stavolta. È un miracolo. Palla poi per Darje. Darje dentro. Mai Chen. Talal. E vabbè. E allora. 3 a 1 al 72. Ogni tiro è un gol ragazzi miei. Ogni tiro è letteralmente un gol. Abbiamo una difesa inguardabile. Abbiamo un portiere che se gli tiri in porta è gol. Cioè è peggio di Kumar. Rant. Ma che stiamo a fare? Ma cosa stiamo facendo? Ma cosa stiamo... Quello me la stoppa col... Col pube? Me la stoppate il buon Tatal? Ma cosa stiamo facendo? Scusatemi eh. Va bene tutto. Siamo scarsissimi. Lo so. Lo sapevo prima di fare queste prime partite. Ma così mi pare un po' esagerato. È finita l'agonia. Perdiamo 4-1. 3 punjab. Tanti punti interrogativi. Ma tante conferme. La più importante. Famo schifo. Allora il nostro obiettivo ragazzi. È la salvezza. Non si può retrocedere. E questo fa capire tanto. Allora. Non facciamoci troppe domande. Non facciamoci troppe domande. Perché è normale. Sono le prime partite. È normale. Sarebbe andata così a prescindere da tutto. Facciamo tanta fatica. Facciamo tantissima fatica. Andiamo così contro il Muan Bagan. Sperando di fare almeno il primo punto. La vedo molto dura. Anche perché guarda qua. Guarda che facce ci hanno. Motivatissime eh. Guarda la faccia. Motivati proprio. Questo fa finta di tirà. Bravo Jerry. In passaggio. Gigante problema per Jaú. Per ricordarli che è ancora un calciatore. E che quindi può mantenere un possesso del pallone. Calma eh. Perché il Kalinga Stadium è dalla nostra. E Rantley però è dalla loro. Questo è un problema grande. Se si gioca 12 contro 10 è un problema grande. Oddio Florentempo Gba. Ling va da Martins. Martins dentro. E mi sa che è già il primo gol. Niente regà. Niente proprio. Niente proprio. Fosse solo il portiere il problema. È proprio la difesa. È proprio la difesa. Non si muovono. Cioè stanno proprio fermi. Bumos. Finta. Fall chiude. Con il fisico. E poi ovviamente non si muove. Cioè riguarda il pallone. Avete visto? Si è bloccato Fall. E daje però. Ce fai vincere in pallo. Uno ne chiedo eh. Uno. Stanno proprio a 300 all'ora rispetto a noi. Cioè sono molto più... Vanno. Cioè tutto qua. Vanno. C'è nulla da dire. Martins. Incredibile. Kumar. Ciao. Uno che si muove. Apuja dentro. Posizione regolare. Apuja. Una due al 62. E attenzione perché abbiamo una partita. Attenzione perché abbiamo una partita. Perché Apuja l'ha buttata dentro. Si è girato. E ad incrociare. E poi all'interno rete. Ora per Petratos dentro. Per Culaco. Bravo Fall da dietro. Sent lei. Mamma mia come ha allontanato la palla oh. Ma come fa allontanare la palla così? Ma come fai? Ma come fai? Cioè ho caricato tre barre ma ha allontanato dei due metri. Ma come si fa a fare una cosa del genere? E attenzione perché abbiamo una partita. Poi non vincemo un rimpallo che sia uno. Mettici pure quello. Tiè. Un altro rimpallo vinto la loro. Mettici pure quello. E beh. E poi è normale che perdiamo tutte le partite. Andiamo al risultato va. Perché è veramente insopportabile. Andiamo al risultato. Avanza alla fine. 5 a 2. Ha segnato già vuoi. Andiamo avanti. E andiamo a prendere Marinovic nel frattempo. Contatta per acquisto Marinovic. Un anno. Ok. Dici te quanto vuoi. Certo che ce potresti dire te eh. Ce lo potresti dire te quanto vuoi. Possiamo fare 1.001. E offrire un bonus di ingaggio. Che ne so. Di 5.000. Una cosa del genere. Vai. 2.002. 6.002. Ok. Almeno ci ho detto. Facciamo 1.005. E 6.005. Dai. 2.002. 5.002. 2.005. Dai. Oh. Perfetto. Marinovic. Abbiamo preso Marinovic all'Odisa. Dai. Vediamo se sarà lui la soluzione. Almeno il problema. Ogni tiro è un gol. Facciamo un piccolo passino avanti. Verso la grandezza. Vabbè regà. Noi l'unica cosa che possiamo fare è ancora testare. 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 Vediamo un po' se si evolve bene la situazione. La vedo molto dura. Sinceramente. Ci facciamo un'ultima partita a estrema. E poi magari proviamo a spostare a leggenda. Se vediamo che continua comunque questa situazione. Però non mi spiego come sia possibile. Che alla prima partita eravamo partiti molto bene. Cioè. La prima partita abbiamo fatto molto bene. Abbiamo giocato abbastanza. Molto bene. Abbiamo giocato abbastanza bene. Andiamo contro l'FC Goa. Un punto in tre partite per loro. Zero per noi. Andiamo. Alla ricerca il primo punto contro il Goa. Non sarà per nulla semplice. Però c'è un nuovo acquisto tra i pali. Ossia Stefan Marinovic. Vediamo se riuscirà a portare un po' più di fiducia. Paul si fa vedere. Adesso. E quindi a Puglia va proprio da Paul. Paul che controlla. Rientra con la finta. Paul. Viene in Arayana. Lo serve in Arayana. Una porta vuota. C'è Jadav. E allora è 1-0. Andiamo in avanti noi. Al diciannovesimo con Jadav. La squadra si è mossa benissimo qua. La squadra si è mossa benissimo. 1-0. La WI. Passa su Rantley. Dentro. Per Carlos. Uh Marinovic. E questo sarebbe stato un gol nelle scorse partite. 3-3. Dentro ancora. E stavolta è gol. Raga ma com'è possibile che i centrali rimangono immobili? C'era in mezzo ai centrali Carlos. Cioè stanno fermi. Stanno fermi. Non si muovono. Guardate. Guardate. In mezzo ai due stava. Ma come si fa? Arayana. Dentro per Jau. Dentro per... A Puglia. A Puglia. Al 46esimo. Il numero 45. Ci riporta in avanti. Secondo gol in cappi. L'ho per lui. Capo cannoniere. Capo cannoniere dei nostri. E siamo avanti noi. Miracolosamente siamo avanti noi. Sada qui. Molto più rapido. Molto più rapido. E... E... Prossim... Sì però comunque secondo me raga c'è qualcosa di base eh. Perché appena segniamo noi segnano loro. A Puglia. Pull. Pull. Nara. Ecco il miracoloso estremo difensore. Però dai. Guardate gli spazi oh. Guarda che spazi. Guarda che spazi. Sada qui. Rete. Non so veramente che dire. Si aprono gli spazi come se nulla fosse. Te prego Jau. Fall. Olè. 3 a 3. Al set. Però ci stanno 300 gol. Ogni partita almeno 5 gol. Ma che è sto gioco? Finisce 3 a 3. Il primo punto in campionato. Proviamo le slide dell'anno scorso? Proviamo dai. Proviamoci. Rega tanto non ci abbiamo nulla da perdere. Sliders che trovate nella descrizione di questo video. Effettivamente non aveva già debuttato eh. Effettivamente Marinovic non aveva già debuttato con questa maglia. Era solamente una nostra illusione. Marinovic è arrivata adesso. Anche perché prima è stata una figurina anche lui. Quindi effettivamente a tutto senso eh. Eh rega è dura. È dura. Vediamo un po' se se sliders salveranno un attimo la situazione. Però quelle sliders sono a leggenda eh. Quelle sliders sono a leggenda. Quindi io proverei quelle sliders con leggenda per l'appunto. Andiamo così allora contro il Bengaluru. Nuove slide. Vamos contro il Bengaluru. Eh Sunichetri attenzione eh. Legenda del calcio indiano. Vediamo cosa combina. Va da Main. Main si gira senza problemi. Marinovic dice di no. Alla che però arriva Williams. Chi lo prova anche lui. Un troppo defilato. Brentley. Ancora da Komal. Ruchrivas è passato Tatal. Dentro per Apuja. Apuja va da Narayanan. Narayanan. Al sedicesimo. Fortunati qua. Ma c'è Sivasakti. Narayanan. Chi la butta dentro. Trema tutta la cam. E andiamo avanti noi. Narayanan. Largo verso Jadav. Al ventiduesimo. Buona per Puitea. Dentro per Apuja. Che deve accelare. Apuja. Apuja. Apuja con il destro. E Komal Tata. Al ventidreesimo. Fortunati anche qua. La butta dentro. Il piccoletto. 2-0 Disa. E andiamo a raddoppiare dunque il nostro vantaggio. Con Komal Tata. Però calmi eh. Puja. Narayanan. Tacco. Per Komal. Rimpallo. Vinto Tata. Al 3-0. Al 46. Sì. Tocca mettere estrema. Williams. Passa. Palla dentro. Mamma mia Marinovic. Che brutta cosa. Che brutta cosa Marinovic. È uscito totalmente a farfalle. Accorce le distanze loro. Ma ormai credo che sia troppo tardi. Jau. E non c'è più tempo. Cominciamo la prima partita. Sliders positive. Tocca metterle però d'estrema. E niente. Questo episodio è stato un po' un testing. E niente. Però comunque abbiamo già trovato una buona base di sliders. E niente.